le extremity roads di Avid Carp seguono un nuovo livello di cura raramente mai visto come suggerisce il nome si tratta di un range nato per essere estremo le extremity roads sono prodotte usando bassissimi quantitivi di resina e carboni molto resistenti ne consegue un'azione rapida e una fattezza costruttiva di elevata curatezza il blank rifinito in carbonio 1k grafica di alta qualità e manico totalmente in duplon conferendo a questa canna classe look e performance estreme la versione 12 piedi 3 libre 25 perfetta per la maggior parte delle situazioni è adatta sia per la pesca con sacchettini a oltre 100 metri con estrema precisione la 325 è ideale anche per pescare giorno dopo giorno la 12 piedi 3 libre e mezzo extremity roads è stata disegnata appunto per chi pesca a distanze davvero estreme con estrema precisione questo modello possiede un calcio estremamente rigido che incrementa drammaticamente la potenza del blank diventando molto molto rapido conseguendo quindi un'azione rapidissima entrambi i modelli sono dotati di anelli da 50 mm apicale anti groviglio lacca porta mullinello fuji line clip in carboni extremity roads the avid cap extremity roads the avid cap i